Ciao a tutti gente di YouTube, faccio questo video perché sono alla ricerca di un programma per fare le modifiche video, quindi fare l'editing video, però è un programma che mi permetta di salvare i video in formato AVI. Io ho Windows XP, al momento uso Windows Movie Maker, però non è che mi soddisfi particolarmente, di programmi free non ne conosco altri, oppure sì ne conosco però non sono un gran che. Tra l'altro io ho una videocamera con le mini cassette e non riesco a scaricare i video dalla videocamera al computer. Non so bene perché, mi si blocca il computer e vabbè. E quindi sto cercando un altro programma che mi permetta di fare delle modifiche carine ai video e che mi dia la possibilità di salvare appunto il video in formato AVI. La mia videocamera è questa, una JVC 34x. Queste sono le cassettine, le mie NIDV. Chiunque di voi mi possa dare una mano, aspetto i vostri commenti qui sotto, oppure quello che volete voi, una video risposta, quello che mi pare, quello che preferite. Grazie, ciao! Ciao! Hi guys, hi youtubers! Today I'm here cos' I need your help. First of all, sorry about my bad English for my bad pronunciation or sorry if I say something wrong. Ok, I need your help cos' I'm looking for a computer program to make editing video. A program that exports my video in the AV format. You know AV like this. Ok, I have a camera like this. JVC. 34x. 34x optical zoom. And this mini DV. Ok. My computer has Windows XP. And you know, I need a program for Windows XP. for me. At the moment I use Windows Movie Maker. But it's not so good. And he make video with this format. And it's not so good for me. Ok, I want possibly a free program. And so if someone of you have an idea, please leave a comment or make a video response. Ok? Thank you guys! Bye bye! Bye! Bye 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 bye! Grazie.